Saremo tipo a 35 gradi umidi Facciamo 35 secchi? No, 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 umidi, magari secchi No, no, 35 sarebbero se fosse secco No, nel senso umidi Siamo partiti che stavamo sudando e siamo quasi arrivati che stiamo sudando Dovremmo prendere una nave adesso Senti, senti come stai dimagrendo passo dopo passo No, in realtà sto perdendo liquidi Sì, va bene Stavo a far far molere Silvia, al tuo momento Quello del far far molete nuovo La l'ho vista, infatti ho veduto Sì, quant'è? È b Kaphò? Sì, buona Sì, è bambino Sì, sì Si stai, amata Che stai dicono Sì? Tu hai fai olti che prendete? Sì, è bambino Sì, è bambino Sì, sono bambino Io e adesso lo? Io penso Io penso Mi piace Il casa Oh, mi piace Il l'ho vista Il casa Il i rice Grazie.